a livello personale con i vari consiglieri piuttosto che poi con tramite loro agli assessori. Poi cos'altro dirvi? Ci battiamo per la trasparenza, ci siamo battuti fortemente per indire un bando di concorso, invece il comune insiste nel dare in affidamento e in gestione spazi a delle associazioni senza confrontarsi con altri, perciò noi ci ritroviamo a votare con delle associazioni che si devono occupare magari di verde pubblico piuttosto che di una riqualificazione di un'area senza sapere cosa avremmo potuto avere con un bando di concorso e se altre associazioni o altri enti avessero avuto l'occasione, l'opportunità di offrirci magari un servizio migliore. Come hanno già detto gli altri consiglieri, purtroppo le nostre proposte sono sempre messe da parte, anzi siamo spesso messi in ridicolo, però c'è di buono che ai banchetti che facciamo puntualmente almeno una volta al mese, abbiamo un ottimo riscontro molto positivo da parte invece dei cittadini. Qualcuno addirittura partecipa alle commissioni, ai consigli di zona, perciò vedono qual è il nostro approccio e loro si sentono molto vicini alla nostra ideologia, al nostro modo di vedere la politica e a come dovrebbero essere gestiti i soldi pubblici e come dovrebbero essere resi più partecipi i cittadini. Detto questo passo la parola alla zona 8. Grazie. Buonasera a tutti, sono Stefano Limido, ho 49 anni, sono sposato, dove mi devo mettere per impallare la foto? Ho due figlie, grandi, una moglie che mi sopporta, io non sono abituato a fare riconferme di questo tipo per quello che ho bisogno del supporto, se mi gira la slide. Questa è la zona 8, magari qualcuno non la conosce, quello è il simbolo del consiglio di zona. Grazie, procede. Ecco, dicevo che non sono abituato a queste riconferme perché di solito noi le facciamo in maniera diversa, questa è la seconda riconferma. L'abbiamo organizzata presso una gelateria in piazza Stuparic, peccato che era chiusa, e poi ci siamo attrezzati in maniera diversa. Allora, per parlare di cose magari meno frivole, parliamo del consiglio di zona 8. Io ho adottato un comportamento differente dai miei colleghi, mi sembra di aver capito. Io non ho mai dichiarato di essere all'opposizione, per esempio quando è stato il momento all'inizio della presentazione in consiglio delle varie linee guida delle diverse commissioni, ho dichiarato che per me andavano benissimo, li avrei poi giudicati nel momento in cui sarebbe stato l'atto pratico a parlare, non semplicemente dei bei propositi buttati su dei pezzi di carta deliberati, timbrati, protocollati, perché loro ci tengono queste cose. Cerco di tenere la massima collaborazione con tutti i gruppi, sia di opposizione, loro si chiamano di opposizione, che di maggioranza. Ho preferito portare delle proposte di delibera invece che delle emozioni, perché appunto avete sentito che le emozioni poi, non si sa che fine fanno, non vengono considerate la maggior parte delle volte. Quando vengono considerate non vengono poi approvate, quando poi per sbaglio vengono approvate non vengono attuate. E ho preferito portare interrogazioni per conoscere se il Consiglio di zona sa che nella zona succedono certe cose e poi sapere anche cosa intende fare. Degli emendamenti, perché nel momento in cui nelle proposte di delibera ci sono scritte delle stupidaggini, allora io cerco di farle correggere. Qualche d'uno è stato approvato? No, molti no, qualcuno va forse meglio, qualcuno è stato anche accolto. Quelli votati, perché il problema è, funziona così, uno presenta un emendamento perché dice che secondo lui è scritta male quella proposta di delibera e chiede che venga cambiata la parola da A, a caso. Se il Presidente di Commissione è d'accordo accoglie l'emendamento e viene modificata la proposta di delibera per cui viene scritta in maniera diversa, altrimenti se il Presidente di Commissione ritiene che non sia da accogliere questo emendamento viene votato. Ovviamente io sono uno. Qualche d'uno degli altri gruppi di opposizione magari vota anche a favore, però comunque il numero non è mai sufficiente perché la maggioranza vota compatta, tranne uno che a volte vota per coscienza propria, gli altri difficilmente votano in maniera difforme da quello che sono le indicazioni del gruppo. Ah ecco, sono noto per essere un po' pignolo, come è che li chiamavano quelli della zona 7, i moralizzatori? Io sono un po' pignolo invece mi chiamano così e ho fatto alcune richieste di parere alla direzione centrale del settore perché nel momento in cui ci sono dei regolamenti che vengono disattesi dal Consiglio di zona, non da organi politici, un regolamento del Consiglio di zona non viene applicato dal Consiglio di zona, allora io domando alla direzione centrale che dovrebbe essere quella che controlla l'operato del Consiglio di zona se secondo loro questa prassi è corretta. E anche qui in una mi hanno risposto praticamente in tempo reale dicendo che non c'era nessuna irregolarità anche quando le irregolarità erano palesi, in un'altra siamo in attesa di risposta da ottobre per cui non è passato tanto tempo. Se possiamo andare avanti, grazie. Ecco questa è una proposta di delibera che ho presentato a febbraio, per esempio intestata alla Commissione Decentramento. Cosa chiedevo qua? Cos'è che voglio? Ah, qui era per chiedere al settore decentramento, cosa ho scritto? Non lo so neanche io. Linea guida di finalizzata. Questo è il titolo probabilmente, manca l'oggetto, scusatemi. Questa, no, torniamo a quell'altra. Devo aver fatto confusione. Ma gli ho chiesto che venisse presa in considerazione il bilancio partecipato, perché era il settore decentramento. Ho tralasciato l'oggetto, cioè il fulcro dell'oggetto proprio. Mentre quell'altra, alla trasparenza del Revisore dei Conti, che ne ho eletto presidente, la dottoressa Simona Amore, chiedevo appunto di discutere, nella prima commissione utile della sua commissione, di deliberare, di portare a conoscenza del bilancio della zona 8. Mi dicono di scorrere, vediamo cosa abbiamo di altro. Vabbè, questo è un altro oggetto per cui lo saltiamo. Un'altra proposta di liberi per cui la sentiamo. Ecco, le interrogazioni ne ho presentato una sul gettone di presenza, che è un argomento noto un po' a tutti, per cui ne abbiamo già parlato. Qui, ecco, questo è un argomento molto particolare, molto delicato secondo me. Non so se sapete che stanno rifacendo il Palalido, si chiamerà Palagei, e siccome hanno bisogno di parcheggiare le macchine, hanno pensato bene di metterle all'interno dei giardini del Lido. Allora a questo punto la domanda è stata, ma scusami, se è un giardino, un parco pubblico, perché tu vuoi mettere... C'è tutta... anche qui un'interrogazione in atto, la risposta è arrivata nei tempi stabiliti dal regolamento, ed è stata, abbiamo girato la sua richiesta al settore competente. Andiamo avanti. Questa è un'altra interrogazione. Qui abbiamo fatto un evento per la raccolta di fondi a favore delle vittime del terremoto dell'Emilia e del Mantovano, e non si sa dove sono andati, cosa hanno fatto, però... Questa è la risposta arrivata. Praticamente abbiamo raccolto 1.250 euro da devolvere alla ricostruzione dell'asilo del comune di Medolla, e a fronte di uno stanziamento dell'iniziativa che passa il 1.500. Per cui li davamo direttamente, forse era meglio. Andiamo avanti. Questo che cos'è? Questo è un altro parere. Qui ho chiesto addirittura l'annullamento del Consiglio di zona, perché appunto c'erano delle irregolarità, però vabbè, fa niente. Ecco qui la concessione dei contributi di cui parlavano gli altri, qui c'è un regolamento da noi in zona 8 che prevede l'emissione di un bando per concedere fondi alle associazioni, cosa che non viene mai fatta. Sì, scusate, chiudo. Questi sono quelli che mi supportano e mi sopportano nella zona. Mi dispiace se ho dimenticato qualcuno. Grazie a tutti. Dov'è la zona 9? Ciao a tutti, io sono Vincenzo Agnusdei di zona 9. Noi fortunatamente in zona 9 siamo in due, e quindi possiamo dividerci le commissioni e riuscire a seguire in modo più proficuo i lavori del Consiglio di zona. Noi siamo partiti a sprombattuto quando ci siamo insediati con mozioni, interrogazioni, segnalazioni. Ogni seduta di Consiglio di zona, i primi interventi sono quelli dopo quegli interventi dei cittadini ci sono le presentazioni delle mozioni dei consiglieri e noi praticamente avevamo tre o quattro mozioni ogni volta da presentare. Però in effetti abbiamo visto che non è un lavoro che paga perché alle interrogazioni spesso non rispondono, noi ne abbiamo in evase, ne abbiamo di molti tipi. Quindi stiamo un po' riequilibrando il nostro lavoro in modo diverso. Quelle a cui abbiamo puntato molto sono state quelle riguardo alla partecipazione e alla trasparenza, quindi alla documentazione, all'invio della documentazione da parte degli uffici in anticipo per poter sapere di cosa dovevamo discutere, alla pubblicazione del bilancio perché i cittadini devono sapere dove vengono spesi i soldi, all'adozione di software per permettere ai cittadini di fare delle segnalazioni. Sono richieste che in alcuni casi sono state seguite, in altri sono state ignorate. Ci stiamo battendo molto sul discorso del consumo del suolo perché la zona 9 è una delle zone dove il consumo del suolo è il più accentuato. Se pensate che c'è adesso in programma la bonifica della Bovisa gasometri che è un'area di 780.000 metri quadri, si parla praticamente di 200 campi da calcio con un intervento di 480.000 metri quadri di cemento solo per residenti, un aumento di residenze di 9.000 residenti quando sappiamo che le case non vengono praticamente più vendute. abbiamo un altro intervento, anzi vi invito, stiamo raccogliendo fuori le firme per chiedere una variante al piano di governo del territorio perché il Paolo Pini, l'ex ospedale psichiatrico Paolo Pini che è della provincia, è un'area in cui la provincia vuole edificare, è un'area in cui sono presenti oggi associazioni, giardini condivisi, c'è una scuola agraria che è il Pareto, che è un'area didattica e la provincia vuole andare edificare all'interno di quell'area. Quindi stiamo raccogliendo, aiutando delle associazioni per chiedere all'amministrazione che questo non avvenga per cambiare la destinazione d'uso di quest'area. Fortunatamente abbiamo degli attivisti che ci aiutano soprattutto per quanto riguarda i banchetti e siamo riusciti a mettere in piedi, grazie a un attivista che ci tiene molto, un banchetto professionale con molti accessori, con video, con riscaldamento e con tutto quello che si può trovare sul mercato oggi. Cerchiamo di vederci ogni settimana, stiamo ancora cercando di capire se è meglio parlare dell'ordine del giorno del Consiglio di zona oppure se fare dei gruppi di lavoro su temi specifici. Quindi stiamo ancora lavorando su questo. Diciamo che il Consiglio di zona è una macchina molto costosa. Se pensate che ogni gettone di presenza costa 60 euro lordi e ci sono 41 consiglieri e ognuno di questi consiglieri può prendere al mese al massimo 11 gettoni. Stiamo parlando per ogni zona di 300.000 euro all'anno. Per 9 zone siamo quasi a 3 milioni. 3 milioni quando... Parliamo di zona, se parliamo per esempio per la nostra zona noi spendiamo 300.000... I cittadini spendono 300.000 euro quando vengono elargiti fondi per 150.000 euro alle associazioni. Quindi questo qui è il gap economico che c'è tra quanto, se si parla soltanto di contributi, tra quanto costa il Consiglio di zona soltanto dal punto di vista dei consiglieri e quanto invece questi contributi che vengono dati a pioggia vengono elargiti dalla zona. Il problema grosso della zona è che è lontana dai cittadini perché questo discorso dei pareri non vincolanti i cittadini l'hanno capito e quindi vengono in zona soltanto quando non sanno più a quale santo rivolgersi. Quindi quando problemi di sicurezza con feste che magari vanno fatti fino alle 3-4 di notte nei parchi adiacenti alle loro abitazioni oppure quando gli mettono le strisce blu sotto casa oppure quando gli cementificano per esempio un'area verde in cui loro hanno associazioni. Ma nella maggior parte delle sedute di Consiglio di zona i cittadini non ci sono mai perché è anche abito che in realtà il Consiglio di zona oggi è un'istituzione che non ha un peso reale e gli assessori ce lo dimostrano in continuazione. Il fatto che dopo pareri non vincolanti su una richiesta di edificazione un assessore come la De Cederis dica che non avete capito niente questo intervento bisogna farlo dimostra che alla fine è vero che la nostra istituzione lascia il tempo che trova. Comunque noi continueremo a fare la nostra battaglia e finiremo grazie a tutti. È acceso sì Allora visto che sono l'ultimo prima di mattia non è che potrei dire niente non è che avrei tanto di più da dire però insomma almeno cerco di dire in 60 secondi di quello che magari gli altri non hanno ritenuto cioè ritenevano meno non avevano tempo per dire dunque insomma un po' l'illustrazione di come funzionano i consigli di zona insomma sono stati fatti dai vari consiglieri e una diciamo mi ha colpito molto Massimiliano Toscano della zona 7 che diceva bisogna perseverare 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 perché in effetti soltanto continuando a chiedere le cose che ci spettano alla fine riusciamo ad ottenerle in zona 9 una delle cose che avevamo ottenuto era stata la trimestralità perché in pratica perché quando siamo nei consigli di zona di cosa ci dobbiamo occupare purtroppo abbiamo a che fare con la burocrazia e il nostro compito è quello di rendere trasparente l'amministrazione pubblica e quindi è far sì che la burocrazia non sia un modo per fare ostruzionismo a quello che è diciamo la gestione della cosa pubblica ma dovrebbe essere proprio la gestione delle competenze quindi il nostro compito per come la vedo io per come la vediamo insomma mi sento molto in linea col Movimento 5 Stelle è nel rendere trasparente e snella la gestione della cosa pubblica e quindi la questione della trimestralità che cos'è parlava anche Vincenzo dei fondi che vengono dati alle associazioni praticamente all'inizio quando siamo arrivati nel consiglio di zona 9 seduta per seduta arrivavano sempre le sorprese di richieste di associazioni che chiedevano l'iniziativa tal dei tali erano tutte tutte le iniziative per come vengono presentate sono tutte lodevoli per cui noi commissari ci trovevamo di fronte a queste iniziative non potevamo far altro che dire sì altrimenti eravamo dei duri di cuore o delle persone insomma che non hanno sensibilità siamo riusciti a far accettare l'idea della trimestralità che tradotto significa dare un termine entro cui per il trimestre successivo devono essere presentate tutte le domande questo dovrebbe portare e in parte ha portato a due vantaggi il primo è quello che tutti i commissari sanno già quello che quale iniziative cioè tutta la rosa delle iniziative presentate per il trimestre successivo per cui questo si avvicina ad esempio a un concetto di trasparenza altro è un principio di economicità perché avendo già all'inizio del trimestre tutte le proposte già sul tavolo in una seduta massima a due di commissione si riescono praticamente a risolvere e a diciamo a sciogliere i nodi di tutte le proposte beh in consiglio di zona 9 è stato fatto all'inizio male poi così così poi alla fine insomma si cade sempre negli scivoloni quindi bisogna stargli un po' dietro e cercare di fargliela mantenere perché ultimamente la soluzione che sta venendo fuori è visto che non ce la facciamo non facciamolo speriamo che non si prenda questa via un altro allora ce ne sono tante di cose che vorrei dirvi ma non farò in tempo un'altra cosa che mi ha colpito sempre da Paolo Conconi la questione del bird watching evidentemente servirebbe in consiglio di zona vedere tanti star nazi insomma aiuterebbe come diciamo come allenamento faccio un po' il riepilogo dei numeri le emozioni che abbiamo presentato almeno quelle personali come primi firmatari sono stati tre tutte e tre respinte 13 interrogazioni di cui solo una ha ricevuto una risposta sulla lotta delle videoriprese non mi dilungo perché sarebbe è una questione ancora in corso e insomma è davvero del grottesco insomma per farla breve non riusciamo ancora a fare videoriprese in consiglio di zona 9 neanche i giornalisti che vengono e chiedono di fare le videoriprese neanche ai giornalisti viene concesso di fare le videoriprese perché c'è un articolo ridicolo che dice che tutti i consiglieri devono essere d'accordo mi lascio andare all'ultima considerazione che è una delle promesse della giunta arancione che riguarda il potenziamento del decentramento e praticamente a Milano stanno cercando o almeno fanno credere che potenzieranno il decentramento e credo siano stati stanziati per ogni zona 7 milioni di euro per la gestione del verde e altrettanti per la gestione dell'edilizia scolastica come andrà poi nei fatti se sarà una cosa di facciata o meno lo si vedrà però io ho un po' paura da questo punto di vista perché se arriva il potere al decentramento ma le zone non hanno proprio la capacità di gestirla forse è meglio che non arrivi un esempio è stato e questa purtroppo su questo vi tedio un pochino la questione dei CAM e CAG come sono col tempo Mattia? ah è finito ok allora sarò brevissimo i CAM e i CAG sono dei centri di aggregazione multifunzionali e centri di aggregazione giovanili ovviamente sono dei servizi per cui il comune non può guadagnarci sono dei servizi sociali che dà nelle zone disagiate prima che ci fosse quando c'era la Moratti si è passati dal fatto che gli animatori che ci lavoravano dentro erano co-co-co è venuta poi fuori una legge che ha detto che la pubblica amministrazione non può avere co-co-co per cui grande era della privatizzazione si è passato tutto a Milano Sport quindi l'amministrazione ha iniziato a spendere di più e chi ci lavorava guadagnare di meno adesso i nodi sono arrivati al pettine il 31 dicembre è finito il contratto e tutti i CAM e i CAG di Milano sono sospesi quindi non c'è nessun servizio quando c'era la Moratti si andava verso la privatizzazione adesso invece diciamo la parola d'ordine di questa giunta sembra associazionismo praticamente si vuol dare tutto alle associazioni cambia un po' diciamo i destinatari di questi tra virgolette favoritismi però il concetto resta sempre lo stesso nel nostro caso dovevamo deliberare tutte le zone devono deliberare possono deliberare un bando per dare in gestione ad un'associazione tutti questi servizi io ho partecipato a una seduta di commissione e ho evidenziato il fatto che ci mancavano i numeri noi abbiamo soltanto un numero 144.861 euro sappiamo che si è speso in zona 9 ad esempio per la gestione dei CAM cifra simile per la gestione dei CAG l'unica cosa che si delinea nel bando è il 90% di questa cifra ma che bando si fa se non chiediamo non facciamo un bando in cui l'associazione si fa garante di determinati servizi e